Stanno calando le prime ombre della sera, ormai è buio, però si è chiusa questa manifestazione di atletica su pista con un ottimo successo. Claudio, tu partecipi poco all'atletica, ma l'impressione che hai avuto questa sera qual è? Sì, sono rimasto stupefatto anch'io, perché io sono arrivato addirittura mezz'ora prima e c'era già qua una quarantina, cinquantina di persone. Il chem mi ha detto che gli atleti dell'atletica fanno così e ho fatto la battuta dicendo che loro sono solo i dirigenti che arrivano mezz'ora dopo, loro arrivano sempre mezz'ora prima. E poi sono stato stupito dalla consistenza numerica di tutti i raggruppamenti, ci abbiamo finito all'imbrunire anche perché abbiamo dovuto sdoppiare, e dico per fortuna, alcune partenze. Quindi atletica che sta dimostrando di essere in continua crescita in questi anni, oltre alle camminate ma anche nelle altre prove, sia la campestre che l'atletica su pista. Io me lo auguro di vero cuore perché l'atletica è sempre stata e secondo me sempre sarà la regina degli sport e quindi è forse anche quella che ha un costo minore per praticarla e quindi nei momenti di crisi direi che date via l'atletica perché darà anche ottime soddisfazioni.